comprendente il sentire delle parti cerchio firenze 77 attraverso roberto setti a cura di luciana campani setti la fonte preziosa che cosa è lo spirito e l'essenza del tutto e l'essere del tutto e l'esistere del tutto e il sentire del tutto il sentire assoluto inteso come sentire dell'insieme comprendente il sentire delle parti noi siamo il sentire delle parti che è un sentire relativo e molteplice che è a casa il sentire delle parti nasce dall'illusorio frazionamento dell'uno assoluto nei molti perché illusorio se questo frazionamento fosse reale il tutto non potrebbe esistere come dio allo stesso modo che un oceano considerabile come un insieme di gocce non esiste più come oceano nel momento che in queste realmente lo si trasformasse d'altra parte se non esistesse la molteplicità il sentire assoluto non sarebbe tale ma sarebbe un sentire unico e solo monolite ma come potrebbe in questa molteplicità mantenersi l'unità di dio se ogni sentire dal più semplice al più complesso non fosse unito all'altro e come potrebbe realizzarsi questa unione questa continuità se non col fatto che il sentire più complesso comprende il più semplice grazie a tutti